Musica Amici di Street Voice, buongiorno! Siamo al Mottolino e in questa puntata vogliamo capire come mai i nostri turisti hanno scelto Livigno per le loro vacanze. Andiamo a vedere! Buongiorno signora, stanno andando a sciare? Non ho capito! Andiamo a sciare? Sì, andiamo! Da dove vieni? Sono da Polonia! Posso chiederti, perché hai scelto Livigno per le vostre vacanze? Bello, bello! Ma perché hai scelto questo posto per le vostre vacanze? Quale è la ragazza? Per il sport, per esempio, per il shopping? No. 1 Per il sport, sì Solo questo o anche altri? No, altri Ok, grazie Bye! Io non parlo bene in italiano, mio marito sì! Perché ha scelto Livigno per le sue vacanze? Eh, perché mi piace qui Perché le piace, ci dica Eh, perché sono tanti nevi, montagne belle È tutto, tutto qui è bello È sole adesso, perché due giorni fa no È nevicato, molto nevicato qui Sì Quindi preferisci quando c'è il sole o quando nevica? Eh sì, no, quando è nevica è notte E quando è giorno, mi piace quando è il sole, è il sole Va bene, grazie, buona giornata Oh e… Non scusci Milide! Sasi giochi con la ne in rincolta? E non so le so io In No ن è il giocatore ogni giorno, ogni battaglia è qui, e anche mio amico. Ok, posso chiederti perché hai scelto Livigno per il vostro Natale? Perché il mio amico ha detto che Livigno è una destina perfetta per Natale, e è vero, c'è buono, c'è buono persone, ogni giorno è qui, molto bene. Ma è questo il vostro Natale durante questo anno? Sì, sì, è solo il mio amico, il mio amico è qui, in Livigno, perché non ho bisogno di altre destini. Da dove vieni? La Repubblica, Brno. Grazie mille, buona giornata, ciao! Buongiorno! Non è un buongiorno. Smocchi sulla montagna? Sì. Sono qui per l'alimentazione? Sì, sono qui tutta la settimana. Tutta la settimana? Da dove vieni? Da Praga, della Repubblica. Ok, e come hai deciso di venire per l'alimentazione? Buon schienzo, bello il vettore. Questa è la mia decisione di essere qui. Questa è la mia amica, è solo schienzo. E questa è la vostra principale fredda durante questo anno? Sì, credo così. Ok, grazie, ciao! Scusi, ma non parlo italiano. Cosa su il vettore oggi? È perfetto. Perfetto. Ok. Perché hai deciso di venire qui per l'alimentazione? Perché è il paese perfetto. Bello, bello. Bello, bello. 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 Da dove vieni? Slovacchia. Ok. E come ti? Oh, bello. 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 Ok. Grazie. Bye. Buongiorno. Posso disturbarla un attimo? Non parla l'italiano. Non parla l'italiano. Parla l'italiano. Parla l'anglese? Un po' un po' un po'. Ok. Quindi vai a ski? Sì. Perché hai scelto Livigno per la tua fredda? Perché io venivo qui ogni anno. Ogni anno, sì? Ogni anno. Ogni anno. Solo per le sport? Sì, solo per le sport. Solo per le sport. Cosa hai deciso di venire? Sono molto bello. Sono da Polonia. Sono mia figlia, i miei amici. Allo è molto, molto bene. Sono super. Hai venuto anche a tutti i miei paesi? Sì, sono venuto. Ok. Quindi non è la vostra principale. Ok. Buongiorno signora. Buongiorno. Posso chiederle come mai ha scelto Livigno per le sue vacanze? Adesso è polski, ne rozumiem. Perché hai scelto Livigno per la tua fredda? Perché? Perché qui c'è l'acqua super, il ski super, l'hotel super. Le persone sono super. Ma è questa la vostra prima volta qui? Seconda. Seconda volta. Qui l'anno scorso. E questa? E qui? Che cosa? Che è bene? Certo? Certo, sì. Posso anche dire se questo è la prima fredda per te durante questo anno? È la più importante fredda? o fai anche a altri paesi? no, no, solo a Livigno questo è l'unica paesi per te durante questo anno? sì, sì ok, grazie mille, ciao 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 che cosa sui foto? parlate czech? no, parlate czech sorry posso immaginare, parlate inglese? no, parlate solo czech no, perché parlate inglese adesso con me con te tutto cosa pensi di Livigno? Livigno è molto perfetto è molto perfetto è molto perfetto tutti sono felici qui c'è buono buono discoteche buono drinki cosa hai detto? no inglese ha detto che il migliore di Italia è l'apero spritz e le donne e le donne è questo la prima volta qui a Livigno? non, non credo che 4 volte in questo anno perché ti piace a Livigno? Livigno? ma molti chilometri di schi solo per schi? ma molto bene e le persone sono felici non c'è problema non c'è problema non c'è problema è questo il tuo principale l'apero spritz durante questo anno? si andiamo all'anno e tutti i anni andiamo all'anno ma per schi penso che il migliore è che il migliore è Livigno si ma ma ho due piccoli bambini si e le piace spritzare e tutto qual è il tuo frattore? il frattore? ora è Livigno hai detto perchè sono qui sì penso no 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 sì solo due domande io sguardo magari solo uno? parla italiano? meglio di inglese cosa pensa di Livigno? le piace Livigno? non mi piace per niente bello come mai non le piace Livigno? no 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 è super ma puoi dire realmente quello che pensa eh? mi piace tanto e perché le piace? eh perché si scia bene e bel tempo sempre sono la terza volta qua la terza volta? tre anni consecutivi? sì soltanto per sciare o anche per fare shopping? per il cibo? per sciare? in genere per sciare ok che tipo di sci preferisci? quale tipo lo zia? ma ha detto una domanda eh lo so ma ho detto forse sapete come i virci di fondo oppure scia alpino? non ho capito mi scusi quale tipo di sciare? secondo me preferisci la discesa la discesa eccola qua lo vediamo dalle scarpe ok e soltanto un'altra domanda questa è la sua vacanza principale è stata anche in altri posti oppure soltanto qui a Livigno quest'anno? questo diciamo di montagna? no no in generale vacanza proprio eh sì sono stata soltanto qui? non è stata anche in altri luoghi ha visitato altre città? ma in Italia? in generale? eh sono stata però quando sono state le vacanze la scorsa estate quindi? giugno agosto dove è stata? al nostro mare poi qua a Lido degli Estensi qual'è il vostro mare? io non lo conosco come? qual'è il vostro mare? Polonia ah Polonia e quale tipo di vacanza preferite? questa o quella? quella di inverno quella di inverno? sì ok grazie mille grazie buongiorno buongiorno posso chiedervi come mai avete scelto proprio Livigno? Polonia inglese? parlano inglese? ok quindi voglio sapere come hai scelto Livigno per il vostro mare? perché è l'Ibiza l'Ibiza ok ok solo per questo? no e anche per le ski per le ski per le ski sì ok quindi il sport è il più importante motivo ma è questo il vostro mare mare durante questo anno? o è stato anche in altri paesi? in questo anno? sì questo è il nostro primo anno però veniamo qui ogni anno sì ogni anno veni qui veni qui sì però veni anche a altri paesi in Italia? sì Sicilia, Roma o Venezia questo anno? durante questo anno? ah quindi questo non è il vostro più importante è solo un altro sì ok buongiorno 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 oltre le fotografie come vai avete scelto Livigno? non capisco italiano cecco ah cecco inglese ok ok quindi come hai scelto Livigno per il vostro holiday? molto bello 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 may i ask you why did you choose Livigno per il vostro holiday? come scelte i due 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 ok grazie buongiorno pronti per sciare? i due nemmeno agad i due Siete pronti per il ski? Sì, sì. Hai lasciato solo per questo motivo? Perché del sport? Vengo a Livino ogni anno. E mi piace il ski qui. È l'unico motivo per cui vieni qui? Solo per il ski? Sì, solo per il ski. Ok, grazie, ciao! Buongiorno! Posso chiedere una domanda? Non. Perfetto! Buongiorno! Pronti per sciare tutti? Come mai abbiamo scelto Livigno? Non ho capito in Italia. Ok, perché hai deciso di venire qui per un holiday? Perché i miei colleghi sono venuti qui. Perfetto! Ah, sì. Quindi, vi faccio chiedere la stessa domanda. Quali hai deciso di venire qui per un holiday? È l'ultima volta che vieni a Livigno. È bello, perché le condizioni con il ski sono perfette. E anche... È una bella città. E... 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 Sì, per sicuramente, per sicuramente. Ok, e questo è il più importante per te durante questo anno? Durante l'esmerza eravamo eravamo eravamo. Ah, dove? Questa volta eravamo in Italia, vicino a Venezia. Per te questo è il secondo eravamo eravamo eravamo? Ok, qual'è? Il primo era in wintertime, in februari, e era in Slovecchia, perché è vicino a Polonia. Quale preferite? Il frattaccio di vettaggio. Si è italiano? Non, in Polonia. Ok, quali preferitevi Le Vigne per il vostro frattaccio? Molto bene. Molto bene. Una grande birra, per favore! Hai scelto Livigno per la birra? Non, per la snowboard. Ok, è la prima volta per te qui in Livigno? La prima volta in Livigno, sì. Ma non in Italia? Non, ho avuto in Italia in tutto il quale. Mi piace questo paese e le persone. Perché hai scelto Livigno per la tua scuola? Perché ho avuto un paese con la mia scuola per questo paese e mi piacevole. So, are you a teacher? Yes, I'm a teacher. Secondary school. Is this your first time here in Livigno? Yes, first time. Even in Italy? No, in Italy I was twice time, I think, in the past. Did you go on holiday to other places during this year? Yes, I will. Where? We're in Czech Republic. Ah, in Czech Republic. And we're in Czech Republic to Pec Poznesko and Harakhov. So, in your country, not outside? Yes, in our country. Ok, thank you, bye. Bye, bye. Guardando il panorama? Sì, però non parlo italiano. Sì, lo parla, lo parla bene, mi sembra. Grazie. Allora, com'è Livigno, le piace? Mucho, molto, molto, sì. Sì, è la prima volta che viene qui a Livigno? Sì, sì. Non ha gli sci? Una delle poche persone che non ha gli sci? No! Cross country. Ah, cross country. Ok. Downstairs. And now, on the top, just for eating. Just for eating? And have a view, and then go downstairs again and ski in the valley. So, is this the reason why you decided to come here on holiday? For the cross country. Food also. And the food is lovely. Ok, is this your main holiday during this year or not? I think this is my main winter holiday. Ah, so where did you go the last summer? To the French Riviera. Would you like to tell me which one do you prefer? Tell me the truth, please. I will tell you the truth. Livigno, of course. It's lovely. And the food is much better than in France. Yeah, it's right. I agree with you, obviously. Parl'italiano? No, I'm sorry. English? Yes. Why did you choose Livigno for your holiday? Because I have a lot of friends coming here each year during this period of time. So, it's the first time for me. One week. And so far it's amazing. You're very fortunate having this here. Thank you. We know. But I would like to know, did you come here only for skiing or also? No, not only for skiing. Skiing is a hobby. It's not something that I do each year. I came here also for all of the sights. Because also I've heard that during the spring also, the mountains are amazing and the sights are incredible. So, you don't get bored. Every day is something new. So, it's not like a routine, you know? Like all the other resorts. Also for the food as well. And for the people. For the shopping maybe. Five percent, ten percent shopping. Why did you choose Livigno for your holiday? I think it's a very nice skiing resort. Plus, it's a very nice city. So, in the evening you have a lot of things to do. For example? For example, disco or restaurants. So, there is plenty of amenities to spend free time. So, do you like dancing? Yes, as well. It's hard to dance after a whole day of skiing, but I manage. Is this your first time here in Livigno? In Livigno, yes. In Italy, I think third one. Third one. Where did you go? I've been to Madonna di Campilio, right? And Ponte di Legno. Something like that, yes. So, do you like skiing, I suppose? Yes, very much. Yeah. And is this your main holiday? It's kind of an extra holiday. We have a holiday, summer holiday in the middle of the year. Plus, we have a winter holiday when kids don't go to school. That's, I think, February. Where did you go? Last February, we spent in Poland. But this February, I'll go back here with my family, to Livigno. And we'll see you in the next episode. Bye. 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 Bye.